salve d'agropalati ecco lo spaghetto che dicevo prima spaghetti con due bellissimi anche se non erano grandi cefali freschi delle nostre acque della calabria di sibari ecco in umido vengono preparati mettendo un po di salsa un po di aglio tritato potete anche mettere un po di porro se ce l'avete qualche foglietta di alloro olio extra legge d'oliva un po di acqua ad aggiungere e poi si può fare questa bellissima spaghettata vedete non deve essere troppo asciutta questo questo tipo di pasta ecco sequesterà adesso deliziosi con i profumi proprio essenziali di cefali sono pesce diciamo così di qualità normale ma quando sono freschi vi posso assicurare che hanno anche loro da dire ecco ecco qua io sto facendo un lavoro di muratura fuori la ricetta non lo poteva fare anzi ho fatto un piatto veramente molto veloce perché ovviamente c'è anche molta fame questa mattina presto sto facendo stuccature fuori che insomma c'erano dei problemini non ho completato alcune pareti e sto facendo questo lavoro che vi saluto d'agropalati da michel expert